Allora, spieghiamo per chi non avesse visto la live di oggi delle 15 Ci è venuta questa idea di fare una piccola tier list sui presentatori italiani Perché sono usciti fuori un po' di nomi casualmente Vedendo dei video datati insomma Ah, intanto dobbiamo scegliere categorie Allora, le deciderà Gennaro Il punto più alto della lista, cioè tier S Come li definiamo? Top, fai tipo showman Showman Ok Poi, ah Onesto Onesto, però è un po' meno secondo me, più da B Ah sì sì, allora facciamo B onesto Facciamo Cazzo che grande Cazzo che grande Vuol dire che è in grande, no? Sì, sì, sì Onesto Onesto Se vi piace a voi Pure frontman 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 Scrivi frontman Ah, quello Poi Ci Siamo Quasi Cornuto 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 Ok, va bene Perché E poi di Vaffanculo Così No, no, no Io metterei pure la categoria mummia Fallito, fallito Qualche mummia metterei io Se può aggiungere Se può aggiungere La possiamo aggiungere Ma mummia Fai mettere la categoria mummia Stava mummia Ce ne stanno le mummie Sì sì, l'ultima mummia Raimondo Vianello Lo conosci maestro? Sì sì, quello che ha fatto Casa Vianello Sì sì Faceva ride Faceva ride Casavianello Cioè C'erano certe scenette Proprio Era fatto bene Era fatto bene Colmondaini Faceva che noia Che barba Che barba Che noia Che barba Che noia Così coi piedi Mai ridondante Mai ripetitivo Dove lo mettiamo? Secondo me Frontman C'è una cosa che ci ha segnato Casavianello E che Raimondo Vianello È un cornuto Vabbè ma nega Sì sai perché Perché lei faceva così Allora quella non voleva fare Vabbè ma quella è Non voleva farlo Quindi era cornuto Perfetto Adesso abbiamo Alberto Castagna Io muo ricordo Stranamore Eh Stranamore Ma questi con lui Ma questo con lui Sì Ma lì Sì Top showman Top showman Top showman Top showman Però effettivamente E non è un gioco di parole Va premiata la costanza Di quest'uomo E soprattutto C'è costanza Per Maurizio Costanza Maurizio Costanza Ha fatto tante cose Ha fatto tante cose Eh porca troia Raga Ha curativo Ha cambiato la televisione italiana Top Il numero di uno Mi tarda Anche l'interviste Su Canale 5 La notte Faciva le calciature Sì Ma anche La guardavo io Tipo Con Carmelo Bene Cioè pure programmi Di spessore Ma ho fatto tantissime cose Tantissime Che ha intervistato La fine è una cifra di gente Al corso dei No showman No showman Ragazzi È tra le prime cose Che ho guardato Quando ero piccolo Perché comunque Poi già da ragazzino C'avevo degli orari Un po' particolari Io mi ricordo Costanzo Tipo la sera Molti che poi Ho rivisto Ma che c'ha Ma posso parlare Con sotto Tipo Perché ridi Civo Che è successo Costanzo No Dimmi Perché stavo a leggere qualcosa Di Sono molto contento Sto c'è Andiamo bene Ragazzi Andiamo bene Boni State boni Cerbero Ragazzi Da cerbero In effetti Serve una moderazione Questo secondo me Rientra perfettamente Nella categoria Cazzo che grande Gianfranco Funari Anche lui Pioniere Di un certo tipo Di televisione Funari Genio della comunicazione Non so se Apprezzate voi A voi Era un grande Ma pure l'imitazione Questa c'era dei programmi Su Ray 1 Mi sembra Poi Amadeus Maestro Amadeus Ha fatto tante cose Su Ray 1 Tanti programmi Pure Tutte quelle cose Le ridiamo Le ridiamo Le ridiamo Noi lo mettiamo Amadeus Vabbè Io lo metto Non vorrei dire Però non lo dico No 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 Vabbè Però Sì sì Amadeus va Presemente in Vavangula Guarda che io E' il fan numero uno Ma no Argomenti Secondo me è un frontman Perché è un gregari C'è nel senso Tipo uno che fa il suo lavoro Ma non è che Spicchi per chissà Quali doti di carisma O chissà Sta lì Fa il suo Ma va a copione Si vede che va a copione È un ariete Secondo me Cioè fa quello che deve fare Va dritto Allora devo dire Porta a casa la serata Che a me Ha sempre Suscitato Antipatia Proprio il suo volto Anche il suo modo di condurre Guadagna qualche punto Per l'epica puntata con Pedro Ovviamente Sì È vero Ragazzi Quella è storia È storia Ma pure l'avventura Con la La moglie Cioè che Che l'ha conosciuta Giovanna Sì 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 Stava tutto arrapato Sì che era arrapatissimo Già solo per quella cosa Però devo dire Che negli ultimi anni Sono le uniche due cose In 40 anni di carriera Ebbè sono quelle più iconiche Però devo dire Che negli ultimi anni Cosarremo ha portato a casa Degli ottimi risultati Anche in situazioni devastanti Sì ma perché C'è tipo un Bonolis C'ha tutti i clip Magari virali Che sono rimaste nel tempo Di cose stradivertenti Amadeus no Cioè non c'ha quella vena Però Bonolis Stava intrattenere Sì Ma poi Involontariamente È diventato meme Comunque c'è da dire Perché lui Era solo incazzato Non fa ride Amadeus Cioè quando mai È cringe Quando provo a far ride Eh sì È tipo un mozzio Sì Però Allora Chiambretti Dica maestro Che ti devo dire Che ti dico Non piace Il Chiambretti show Però guarda Che non era male Ma io lo guardavo Tipo anni fa O anni anni fa Io metterei incazzo Che grande Mi è sempre piaciuto Aveva sempre fatto ride Lui c'ha un modo Di condurre Comunque molto abile Riesce a essere spinoso Però allo stesso tempo Fa ride Ti mette in ridicolo E fa ride Quindi c'ha uno numero Un po' strano Particolare lui Secondo me è molto 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 Lo mettiamo in cazzo Che grande Secondo me sì Dai ci può sta Antonella Clerici Vabbè Prova del cuoco Come? La prova del cuoco Ah la prova del cuoco Ho capito Ho capito un'altra cosa E lì sta proprio Nel chilling Però Come presentatrice Metterei mille altre Prima di lei Quindi mummia Permessi O Vafangulo O Mummia Maestro scelga lei Vafangulo Ok Allora Posso dire che condivido Alla fine Io ricordo Che quando mi svegliavo C'è stava il periodo Che a casa C'è stava sempre Il programma su De Cucina Quindi l'avevo tutto Grazie Lucia Roma Simpatica Brava Quello che te pare Però Pure io L'avrei messa In Vafangulo Nel senso Perché non è Quel tipo di presentazione Che piace a me Poi ricordo Che era una cosa Molto per i ghiazzini Quindi è anche ovvio Che era per quello Ricordo che erano I periodi Forse di scuola Sai C'era un mattino presto Non mi ricordo Ok Allora Campo Della politica Michele Santoro Allora Eh io politico Allora Allora Diciamo una cosa Che Nel momento Di Massimo Picco Berlusconiano In realtà è durato abbastanza Lui e Travaglio Avevano creato Una schiera di seguaci Era l'anti Berlusconismo Diciamo così Secondo me Quel tipo di mentalità Ha fatto molti danni Il giustiziarismo Eh Anche su me Come direbbe qualcuno Nel senso che anche io Da ragazzetto Eh Oddio che è? Oh oh Oddio Che è? C'è dei rumori Che è raga? C'è qualcuno che sta provando Ad entrare Oh Dio santo Apri sto cazzo De Portone Apri sto cazzo De Portone Ma chi è? Oh Arrivando a scuola Senta Finisco Comunque C'è da dire Che Che hanno zero Top Trasmissione Politica Anche se è super schierato Ma vabbè Come tutte Attenzione Che crossover Prego prego Si segga Curiosa sta cosa là Sì Per introdurre anche I nostri ospiti Nanni e Rubino Per chi si fosse collegato Adesso Ciao belli Mi schianto tu Alle volte Devi usare il cellulare Greve Greve Devi usare il cellulare Alle volte Io gli scrivo E mi risponde Dopo un Ma sta in live No adesso No adesso Ma non ti ho scritto Greve Rubino Non ti ho scritto No Rubì Non mi è scritto niente Rubì Rubì però pure Tu arrivi qua No interrompi La trasmissione Per dire le tue Fake news Ma perdonami Ma stiamo trattando Già di fake news E col maestro Mi danno Tu è morto Porco a due Eh forse non lo sapete Ma è successo Un casino Hanno dato per morto Ma chi è Al maestro Davvero Una testata Mezza troll Poi sta cosa È stata rilanciata Su tiktok E si è trovato I DM Intasati Ma sei vivo Eh sì Curami Ma da dove è morto Su Instagram Ma scusate C'è un è morto Cioè se uno è morto Ti scrivi su in DM Sei vivo Cioè se è morto Non ti risponde Se non ti risponde Può essere un indizio Non mi ha risposto È morto Sì sono morto Ma io la politica Ve la lascio a voi Perché non mi interessa Io ho detto Che in parte Una mentalità Che è stata alimentata Anche da lui E travaglio Di cui sono stato vittima E effettivamente Ha fatto del male All'Italia Secondo me Però c'è da dire Che i suoi programmi politici Erano Fighi Sì Cioè io me li vedevo sempre Sì 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 Quello è vero C'era tanti bei dibattiti Se riesce Se riuscivi a vederli Con mente limpida Onesta intellettualmente Te li godevi Sì Quindi va a fangool Forse è eccessivo Più cornuto Vabbè allora io Lo metterai su mummie No mummie no Sì Comunque è un grande presentatore Lui Però attualmente In effetti non è Tutto è che all'epoca Era tutto un po' a destra Perché quindi Era un po' de parte Però era l'unico programma In quel preciso momento Storico Forse servivano anche figure così Perché c'era il grande mostro Per un spugnano Anche dal punto di vista Dell'informazione Però ci sta che ci siano figure De parte infatti Perché Sennò non c'è neanche Un contraddittorio Quindi alla fine C'è sto C'è sto Quindi E tra l'altro No è un ottimo presentatore Lui Se parliamo proprio di Conduzione stretta Mi piace un sacco Al di là delle idee politiche Mi piace un sacco Sì no no Era quella al di là Era bravo Sapeva Come tenere a bata Gli ospiti Frontman Cornuto Mummia Frontman Frontman Ok dai Frontman Mi sembra giusto Anche se secondo me Vale Più di Amadeus Ma sono troppo diversi Però va bene Come categoria Oddio Cazzo che regia Chi dà Regia Grazie Allora Marco Columbro Allora Antonella ci sa le mummie Eh Ci sta La c'è Columbro secondo me È Mummia 100% Sì 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 Pure io L'ho un buon Ha visto gli alieni Poi da recenti C'ha avuto un tragollo Devastante Pure lui non era male Però sta perché stava male lui Lo so Infatti non per sue colpe Probabilmente Gli alieni però Non penso siano dovuti a quello Lui dice che Sono stati i vari momenti In cui parlava con gli alieni Io ho capito Pure Mizzia Quando stava per morire Parlava con animali Mi vedeva addosso Quelle sono cose diverse Nanni Nanni Dimmi Simo Senti quanto è buono sto succo Allora Come senti? Vediamo Vediamo È buono davvero È buono Di cosa sa? Di Parasiso Sì 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 No Porco due Simone No 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 Mi voglio quello suo No io c'ho C'ho solo due bicchieri Rubin Eh te potete organizzare Ma c'è stanno i bicchieri C'è stanno i bicchieri Ti vado con Nanni Mamma mia Di giù la prossima volta All'Upus Di proprio Già mi ha inculato L'acqua ieri Mamma mia Mazza Simone Ma stavamo davvero Lì Ma te lo do io Ma neanche in film post Apocalittica Mamma mia davvero Mad Max Mi hai rubato l'acqua Oh grazie Si è pure alzato eh Allora maestro Rulla Faccia che Rubino Tutto soddisfatto Mentre versavi Ti giuro È dai motte Ha fatto un'espressione Rubino Ti giuro Sembrava che mi hanno Aggrappato le palle Ha fatto un'altra Bellissima Maestro Renzo Arbore Dove me lo mette? Eh no Categoria Arbore Non lo so Non lo conosco Non capisco Crea un'altra categoria Vai Categoria Arbore Categoria Arbore No creala Creala Falla falla Categoria greve Proprio Mike buongiorno Maggio è Secondo me Showman Ok Secondo me Ha fatto tante cose È la storia Dalla televisione italiana È la storia Come far a dire Secondo me Poi non lo so Se vuoi Eh beh sì 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 Fattualmente Fattualmente Comunque la carica Ci stava A far fuoco Mi sono stati guadagni Proprio Anche se Pure lui Non mi è mai stato simpatico Eh Lo trovo Lo trovo irritante Però Irritante proprio Come Come approfio Però indubbiamente Super funzionale Soprattutto anche La gestione Degli sponsor Tenere la baracca In piedi Era un po' Un despota Era un po' Un despota Però Soprattutto All'epoca Mi hanno rapito la barra Eh? Mi hanno rapito la barra Sì 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 L'hanno ritrovato Però mi pare No? Dopo Non lo so È stata ritrovata La barra Di Mike Buongiorno Un giorno Con la salma All'interno Sta una cosa folle Quasi ci potrebbero Un po' Sì sì Il rapitori Hanno rubato Un cadavere La barra è ovvio Sti cavoli È stata ritrovata La salma Mi sembra Io non l'ho vista Per quanto ne sappia io Non c'era Ma che polvere Era morto da quattro anni E le ossa Allora Vabbè ragazzi Il territorio non mi sembra dei migliori Claudio Bisio Claudio Bisio Qua domanderei la stessa cosa È stata trovata la salma Perché è un po' Che non lo vedo Che è che sta a fare Ultimamente A me piaceva tantissimo Bisio Sia il periodo Quando presentava Zelli I livelli dei Mac Buongiorno Mettilo Secondo me frontman Tra frontman e cornuto Dai La seconda Forse più No Cazzo che è grande No Io No Cornuto no Bisio cornuto No 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 Dai Facciamo la frontman Poi ci sia giusta Magari dopo È giusta Ok Milli Carlucci Eh ragazzi Secondo me Cazzo che è grande Eh sì Dai Milli Sì sì Venomenale Dai Milli Carlucci No no Ancora sta sul pezzo No che mummia Ma che cazzo dite Ma per niente proprio Mummia in chat Perché No Non dovete guardare l'età Non è quello il discorso Ci sono mummie anche magari di vent'anni Sì 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 Più noiosa ever Non sto d'accordo Fossile No no Vabbè il fossile è un altro Fossile C'è E sta qualche fossile No Assolutamente no Per me cazzo che è grande Ah oh Alberto Angela Non Piero Alberto Angela Con Le sue cose Cazzo Cazzo Arbore secondo me Arbore 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 Siamo qui nelle vie di Napoli Che andiamo a vedere Nelle vie di Napoli Il Vesuvio Arbore 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 Non lo so Arbore Ragazzi a questo punto Secondo me Frontman Alberto Sia meme Sia comunque Sia a livello di Intrattenimento E sia a livello di Informazione Cazzo gigantesco C'è stato Ragazzi a Magallo No Non valutabile Vabbè Allora Qui Dove lo mettiamo Passiamo le varie Raffaella Raffaella Ragazzi Top showman Prima di Costanzo Secondo me Sì Sì Indubbiamente Anche nel mondo C'è tutto Ma non c'è da dire niente Oggi Che vuoi dire Esatto Poi cantava Ballava Ha fatto tutto Le caramba che sorpresa Era storico Tra l'altro Ha ispirato tutto Moda Anche Pseudo rivoluzioni Parafemministe Nel senso È stata veramente Incredibile Ha fatto pure Il Devois Mi sembra Questo boomer Però ancora sento gente Che quando si incontra qualcuno Fa Caramba Che è una cosa Dici Dei trent'anni fa Ma ancora lo dicono Divinità Anche lato musicale Sì Sì Gennà che ne pensi Di Paolo Brosio Secondo me c'è una categoria adatta Esatto Top meme Paolo Brosio No secondo me No top meme Dai ragazzi Ma è quello che l'ha chiamato il papa Sì Lei Su signore E lei Sì che paporaccio Si è messa a piagne Ma che era quello con Frank Matano Sì 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 Io mi sono picciato Una mummia Io ogni tanto lo vedo In qualche trasmissione Tipo quella condotta Da Marco Del Debbio Spesso lo ospita Però purtroppo È una macchietta Beh Stalla bene Una mummia È una macchietta È palesemente una mummia Una mummia Però è anche Cioè se lo vedi Proprio Ma vaffanculo Beh Io in realtà Non riesco a essere cattivo Con lui Ok ci sta Non riesco a essere cattivo Non mi ispira Troppo buono Io troppo buono Esatto Mummia mummia Allora Corrado Augas Allora mummiesco Per certe cose E fossile per altre Però E fossile per altre Però Considerando l'età Che poi non è facile Rimanere sul pezzo Quando avanzano gli anni Secondo me Frontman Ma pensavo Considerando l'età Mostro sacro No no Dico È ovvio Che andando avanti Con gli anni È difficile Rimanere super riattivi E aggiornati eccetera Però Comunque si è creato Un suo spazio Fa divulgazione Questo A Bruno Vespa Questo è il mio primo Mamma mia Ma ci sta tutto Ma ci sta tutto Dai Anche se lui è un po' meme Eh Sì ho capito Un po' Però Dai Malese vaffangule proprio Io metterei pure su fossile Quindi Vaffangulo Se lo becca tutto Ah Belpietro Allora Belpietro è un altro che Tranquillamente Vaffangulo Non tanto per Il discorso Politico Perché anche Santoro Per ragioni Similari Ma dalla barricata opposta Non mi piace A livello di idee Ma proprio a livello di conduzione Lo trovo Viscido Sì È la conduzione Littiliano Ma come persona Littiliano Lo trovo Anguillante Eh bravissimo Sì Esempio perfetto Un serb Paola Barale Vabbè fossile Ma che sta a dire Ma fossile Ancora Barale Barale Che sta a quell'altro fossile De Razdecan Ma come Cazzo Si chiama Ma vaffanculo Sto po' Ma c'è delle capacità Di Paola Barale Non so se era brava Ma lei è nata Con Mike Buongiorno Facendo la valletta Rimani là Ma no Perché Rimani là No Io mi sono evoluto Quella è una valletta No Lei no No Ok Io questo chiedevo Lei che capacità È in grado O non è in grado Non è in grado Non è in grado Basta Io non riesco a valutarla Paola Barale Pippo Paudo Buona mummia No No Pippo Paudo È in grado A me Schomen Dai Schomen Schomen Cantanti che erano venuti Che ti hai mai visitato Che fa male Un signore E una signorina Eh Io quello stavo a pensare Pippo Paudo Però Ricordiamoci pure Il contesto storico diverso No Quello era di Mike Buongiorno Quello là Era molto diverso Quello che ho appena detto Era di Mike Buongiorno Non lo so Secondo me ragazzi Anche per quello che ha fatto Vabbè Allora top Dai Sì sì Per me è quasi Sovrapponibile a Mike Buongiorno Come importanza Meno Però Dai siamo lì Dopo Dopo infatti Dopo lui Chi sta Barbara D'Urso in cima Tra top show Top show D'italiana Ragazzi Vabbè raga è innegabile Per quanto può stare antipatico Il prodotto Per quanto può stare antipatico Vabbè sentanto c'è Rubino sotto E fa così Proprio Un caricolo Mentre sto facendo discorso serio Quando vuoi Barbara Io sono il tuo schiavo Vabbè ho capito Una professionista Al mero sesso Lo schiavo Della sesso No posso dichiararmi Non lo so dichiararmi Quando vuoi farmi Qualsiasi cosa tu voglia Che ne pensi Sa Barbara Marrocco di questo Ma che sti cazzo Barbara Marrocco No Barbara D'Urso io Ma stiamo Allora Ributate e tagliate la parte Maestro Comunque è buona È buona No no ma non parlavo No è buona Ragazzi Come conduzione Per quello che fa E per quello che ha creato Ovviamente È 10 tu 10 Nel senso che ha creato lei Quell'immaginario Per certe cose dannose Ovviamente Prima edizione del Grande Fratello È una delle cose Che ricordo Diciamo più Vecchie Di lei Poi capirai Mio padre Mia madre Mi nonno Lo vedevano Involontariamente Da bambino Molto piccolo Ovviamente Ciò che non mi piace Enfatizzazione estrema Del dolore Banalizzazione Di qualsiasi tema possibile Però Ha capito il target Di riferimento Da La merda Alle mosche Sì Secondo me Vuole farsi passare Anche per Scema Per mettersi a livello Dei suoi spettatori È vero Per farsi giudicare In tal senso È quasi Una donna semplice E un'amica De famiglia Ma che semplice Questa c'è una vita Che Manco messi assieme Tutte le nostre finanze Riusciremmo a fare Un mese Di come vive lei È un po' Una bestemmia Vederla insieme Agli altri Forse Ci sta Perché Rappresenta Comunque Il nostro periodo storico Per lo meno Gli ultimi dieci anni E anche Il tracollo Della televisione italiana Ma basti pensare È una presentatrice Di enorme successo Gargantuesco successo Ma diciamo Che non dobbiamo valutare Solo ed esclusivamente Lo share Ma poi Non è neanche Incapace No Perché secondo voi Non state Tra le top five Donne Presentatrici Degli ultimi cinque anni E degli ultimi dieci anni Entrambe Ma poi Quante normi Odiare Barbara D'Urso Dai Diciamoci la verità Ma basta Oste cazzate Ter normi Hai rotto il cazzo E quanto è normi Quanto è normi Quanto è normi Come se una cosa negativa Nel tuo caso Sei solo un cavernicolo Ma io sono cavernicolo Porco di Ci sono un australopiteco Ancora parli Ma Fanno Questa cosa Un po' normi Io sono speciale Bravo Un bambino speciale Che ti devo dire Che ti devo dire Basta Oste cazzate Inormi Madonna mia Alcuno li sente presi in causa Allora No ma me prega Anche cazzo Però è normi Ba Sempre sta Un po' normi Io sono diverso Rupi Ero per cazzo Vaffanculo Nanni prego Nanni prego Quando hai detto Perito storico Ti rendi conto Che siamo passati Da un periodo storico Dove c'era Gaber Che faceva il presentatore La televisione A Barbara D'Urzo Come top Conduttrice C'è una roba assurda Infatti per me È giusto È giusto che stia qui Perché rappresenta bene Questo passaggio Daniele Bossari Allora Io già da giovane Mi facevo le cose Facciamolo vedere un attimo Già da giovane Un po' più giovane Facevo Facevo conoscenze E calla Oh No Rubino Già da giovane Prendevo conoscenze Contatti Ho inventato io Rubino T'ha creato lui Come vado la barale Secondo me Ah dici perché Cornuto da Alex In camera caffè Eh beh No secondo me Bizzarri Ovviamente Preso da solo Stavano sempre in coppia Solitamente a condurre No però Sia quando hanno Conduttore Iene Quando hanno fatto Terminate cose Pure a Sanremo E altri programmi Non è malascio lui Riescono A camera caffè Si ha fatto divertire Quanti anni Sì Riescono Io parlo di conduzione Non di camera caffè Che vabbè Ah ok ok Però Riescono a mixare bene Una comicità Mainstream Ogni tanto Qualcosina politica Canzoni Quindi sono bravi Secondo me Cazzo che grande C'è stata Sono molto godibili Pure roba di calcio Fa lui Non ti cringi Quando lo senti Solitamente Esatto Normale Maestro Adriano Celentano Vabbè Come cantante Come conduttore 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 E come conduttore Non l'ho mai visto No Non l'ho mai visto Due famose pause Io mi ricordo Un'intervista A Alberto Sordi Dove si prendevano Un po' Per il culo A vicenda E sordi Appunto Dicevano Ma ste pause Dimmi un po' E lui Stava zitto A me A me Per me Guarda Mi stai in vita a nozze Mi fumo una sigaretta Non parlo E poi all'epoca Si fumava Attualmente Mummia È diventato anche lui La parodia Di se stesso Divorato dal tempo Un cartone Si è sparito totalmente Un cartone animato No vabbè Ha fatto Ha fatto Quella cosa Orribile Adrian Ovviamente Però in generale Non si è Secondo me Non è riuscito A devolvere La sua comunicazione Che all'epoca Era efficace Perché c'era Magari una soglia D'attenzione diversa Viveva anche Del suo carisma Ed è rimasto In carta pecorito In quegli anni Nel tre Morandi Qualcosa Morandi È riuscito A comunicare Grazie anche ai rovazzi Però Quindi secondo me Mummia Attualmente Enrico Papi Eh va bene Che io se vuoi dire Eh che tu vuoi dire È divertente Quella cosa delle canzoni Sarabanda Sarabanda È top showman Eh showman Top showman Condivido Allora secondo me Cioè perché si sta guardando Un po' tutto L'excursus della carriera Quindi Sì top showman Forse per Sarabanda Però dopo il nulla totale C'è l'inesistenza Anche questo È vero È vero Secondo me Cazzo che grande Adesso Ha ripreso Fa qualcosa Ma vi giuro Non ho visto Sì Big show Non posso valutare Big show Ti posso dire Negli anni Ha fatto altro Però Ha fatto altro Meno Rilevante L'uomo gatto L'uomo gatto Quindi è giusto Ti posso dire com'è lui Perché ho fatto un programma Con lui Ti devo dire Ti devo dire Ti devo dire Ti devo dire Ah quello delle giostre No? Sì 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 Allora lui Off camera Io l'ho visto Off camera E è simpaticissimo Pure off camera È simpaticissimo Però quando si tratta Del lavoro È tipo una tigre Cioè mi ricordo Una scena Che lui stava dicendo Una cosa A un operatore E questo Stava tipo tutto Un po' Sembrava un po' Sue e sue E ho detto Va bene Cambiamo operatore Via Madonna Così Sì 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 Io sono rimasto Porca troia Sono rimasto No ho scioccato Però ho detto Via Chiamate un altro operatore Rubino Era un attore Quell'operatore Ma che cazzo dici Hai rotto una scena Per far sembrare Ricopabile Ma lei che ne sa Ma lei che ne sa Ero io quell'operatore Ma oh mio Ah è vero Aveva fatto pure La Pupa e il secchione Sì Ah è vero cazzo Perché era la Mercante in fila Ha fatto Mercante in fila Bello E vedo Ecco Dopo l'ha fatto Pino in segno Però non ricordo Chi prima e chi dopo Però effettivamente L'aveva fatto pure Papi C'era pure L'edizione di Papi Sì 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 Mi sembra che aveva iniziato Pino in segno E poi lo fece Papi Era il mercante in fiera No C'era La Luna Nera Era una cartomante Sì La Luna Nera Era quella zingara Cioè no Era un attrice Ho detto cartomante La zingara Che fa le carte Dalle carte Era in segno Era quello E Rubino Un suo canale Ma chi c'entra Una zingara E super Comando Rubino Sì A livello proprio Personaggio La Luna Nera Era la carta Sì Io sto d'accordo Con Nanni Nel senso che C'ha avuto Il picco incredibile Di Sarabanda Però non lo posso Quindi cazzo che grande Secondo me Un Ariston Cazzo che grande Dai Io lo metterei lì Cattelan Ah vabbè Parlate voi Perché qui ho da dire A me piace Cattelan Sono sincero Pronto Non ho mai visto nulla di lui Diciamo Cioè del Cattelan Show Ho visto veramente poco Era normale Era bravo Ma bravo Adesso non lo seguivo molto Cioè bravo È bravo È bravo Sopravvalutato secondo me Sono d'accordo col maestro Secondo me Ti viene osannato troppo? Secondo me Sembra un gigante In un paese Sembra che È passato più per conoscenza Che per quello che è Conoscenza non lo so Nel senso che la sua cavetta Era una cosa Mi pensiero No la sua cavetta Se l'è fatta Io me lo ricordo Pure in programmi Possiamo dire che è un meganormi Che regna sui normi Più che altro Sì È un meganormi Con la pretesa Di Di mostrarsi sul pezzo Di vendersi come uno Sempre sul pezzo Però Secondo me I meganoidi C'è il tuo frontman Dai ci sta Magallone Io ho conosciuto la figlia Per me è un grande Magalli Magalli ragazzi Genio Genio Assoluto Una cultura assurda Beh Che io voglio dire Magalli Grande Magalli Magalli è proprio la definizione Dello showman Magalli Eroe Magalli eroe Lui è sottovalutato Anche un po' ridotto a meme Ultimamente Suo Suo discapito Ha fatto Vabbè pure le cazzatine Nel collegio Far doppiatore Però Ha fatto anche cose fighe A livello di doppiaggio Filottete top Secondo me Guarda Cazzo che grande Io lo metterei su top showman Sinceramente Io pure su top showman Eh quasi showman Secondo me Ci potrebbe stare Io metterei su top showman Allora io a Magalli Affiderei la conduzione Di qualsiasi cosa Anche della mia vita Esatto Esatto Sì sì Se non sa condurre Qualsiasi cosa Sa condurre Facciamo un attimo Vedere questa cosa Che è interessante Magalli Conduttore dei prossimi boss Ciao Michela Ecco Eccola Michela Figlio Michela Magalli Magalli Top showman Magalli c'è gasga Top showman Top showman Che cosa vuoi aggiungere Rubino Qual è il sottotesto No È il sottotesto Diciamo che la conosco Molto bene Eh simpatico La conosci Rubin Che la conosci La conosci bene O molto bene La conosco No l'ho conosciuta Soprattutto conosci Lundini Questa è la domanda Lundini ti conosce Eh poi c'ho pure il numero Appunto Chissà cosa Intricherà Tutto ciò No no Ma andiamo a fondo Io voglio sapere solo questo Rubino Tu la conosci bene O molto bene No l'ho conosciuta In scioltezza Cioè Tranquillo Che vuol dire Va bene Va bene Se siamo capiti Se siamo capiti Se siamo capiti Dai Rubi Facciamo che Diciamo che Magalli Ha sparato bene Ha sparato bene Sì 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 Daniele Piombi Ma chi è? Una mummia Secondo me È così Vabbè ma C'è la fiducia È impossile Luca Giurato Ah come è stato Il sortimo Ma il mazzo Quante di saldo Anche se molte cose Le faceva involontariamente Quindi diciamo Si potrebbe E' quello che fa ride Eh appunto Perché Che non Che non Che ne è capitato Pure a noi Che certe cose Che hanno fatto ride Le abbiamo fatte Involontariamente E quello comunque È valutabile In una nostra ipotetica Devalutazione Per me è l'unico Che si meriterebbe La categoria Arbore Secondo me Top showman Dico la mia Secondo me Top showman Secondo me Quelli che sono Nella prima Nanni ha capito Nanni ha capito Lo voleva dire anche lui Esatto Perché lo vuoi mettere In arbore Ma perché È un coglione Dai Perché se sbagliava a parlare Era tutto Uno smascellamento Nella prima categoria Secondo me No Perché Perché Serve anche uno Che è in grado Di tenere La baracca In piedi Lui è uno Che butti lì Effettivamente Fa molto ridere Però Non si può Mettere assolutamente In showman Quindi Mi accontento Di questa categoria Questa categoria Qui Dai Facciamo Facciamo che va bene Devi pensare Glielo affiderei Il mio show A lui Sì 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 No Io Devo fare No Prossimi boss Guard condotti Da Luca Giurato Tu mi dici No Però Come diceva Nanni Tu non gli puoi affidare Cioè tu non puoi dare Le chiavi in mano A Giurato Eh però Guarda Cioè nel senso Io sì Tu sì Infatti tu sì Però lo devi affiancare A qualcun altro Che dirige Omi Adolio E Luca Giurato E poi c'è Ivan Che tiene La conduzione Ma ti immagini Tu metti Una serata Giurato E Magali Luca Giurato Omi E Ivan Bonolis Ehm 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 Eh sì Penso che non ci siano dubbi In sala Ciao Darwin Just L'avanti L'altro L'avanti L'avanti Talento incredibile Una macchina Ehm Comunque Bonolis Assolutamente Dialettica perfetta Tempi Fa pure leader Da veloci raptor Anche insieme a Lauren Spesso è anche autore Spesso è anche autore I suoi programmi Creativo Tutto Ah però fanno ridere Anche insieme a Lauren Anche molto la moglie Sì pure Lavora bene con le spalle Bravo maestro Ma anche da solo Cioè a differenza di Bizzarri E che si so Luca e Paolo Che Qualcosa da soli hanno fatto Ma non così incisivi Lui è forte comunque Io so che Robino Ha tanto da dire Su Bonolis Perché c'ho tanto da dire Specie sul figlio Di Bonolis Che devo dire Vabbè L'altra sera Ci ha detto Ma si stavo Mi ha fatto la storia Su Instagram Stavo a casa Allora Giù a Biardo Siamo visti Alla partita Mazz Eh perché Come facevi a sapere La cosa da moglie Per quello l'ho detto Perché la moglie Naturalmente Lavora Lavora con lui Con SDL Con la SDL TV Mi pare Ma Conduzione dei prossimi Boscar Come la vedi Ce si può lavorare Ce si può lavorare Ce si può lavorare Ce si può lavorare Allora Attenzione qui Maria De Filippi Vabbè Ma Lei autrice Ma litigano tutti Uomini e donne Amici Rivoluzionaria Sì A me piace La sua Sembra sempre Tutta Rilasciata Ma poi una calma Guarda che è difficilissimo Trovare i clip Di lei negli anni Tutta la mole Di roba Che ha fatto Dove lei si incazza Infatti c'è De Canepazzo Che è un altro Suo top fan Canepazzo Che mi ha sempre Detto sta cosa qua O io negli anni L'ho sempre visto Una compostezza Che io al posto suo Gli rovesciavo Dalla sedia Gli davo Vabbè Puntini puntini E singolare Perché spesso Si ritrovava In mezzo a gente Che litigava tantissimo I suoi programmi Molti programmi Li impostavano Anche Uomini e donne Amici C'erde litigate E sto d'accordo con Anna Meglio Della D'Urso Si Certo Infatti stanno Nella stessa categoria Io Io ne creerei Quasi due Per i top showman Sai A volte te la fa Più a bene Perché spara Tipo i sfondori Poi pure lei Se la vive con Legger S Mara Venier È la perfetta Incarnazione Della Legger S Arbore Però Non ho mai fatto Programmi di spessore È una simpaticona Però C'ho beccato Quello si No no Mi fa simpatia Però Le interviste Insomma Ah si Faceva Faceva il film Con Jerry Calao Vero Non stava Con Jerry Calao Lei non Non mi ricordo Però faceva il film Con Jerry Calao Non so Mi sembra La solita cosa Che suonare pianoforte Sì Classico Jerry Calao Classico Jerry Calao Che ancora fa quello Non so se sto Fleshy Sposati Hanno preso in braccio Erano sposati Sì 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 Lo intervistò pure una volta Dove parlavano di questa cosa qui Alla fine Non è sgradevole Non è sgradevole Ezio Greggio Maestro Ezio Greggio Showman Ezio Greggio mi ricordo Come film Non mi ricordo Come conduttore Ma sta striscia la notizia Ha fatto per 60 Ah sì Sì Il silenzio dei prosciutti No secondo me Top Sì Top Secondo me Striscia ha fatto Non sa che cosa Ma meno Certo che c'ha gli autori Comunque Allora A striscia la notizia Ormai proprio sugli allori totali Non come Giacchetti Che è proprio In fossilito Giacchetti Giacchetti Stà su Saturno Lui ancora Stà su Pezzo Effettivamente Sì Adesso diciamo Striscia la notizia Non è un genio Non è uno che dice Ti crea Dello show dal nulla Tranne i film Ti crea lo show Che beve il bicchiere E te guarda Beh ma più tutto Con il men's blue Magari per quello Io ti dico A livello di conduzione È uno Che comunque È una sagoma Perfetta È una sagoma Nel senso positivo A striscia la notizia Io l'ho sempre visto Ripeto Comodo Nel senso Non l'ho mai visto In una prova Di conduzione Come può essere Un Sanremo Un programma difficile Lo visto sempre nel chilling Che prova tanto ridere Bravo Difficilmente fuori Dalla sua zona di comfort Esatto Perché ha fatto il suo lavoro E però Amadeus ha condotto Sanremo Non ho mai fatto In tutta la mia vita Tranne Che in quell'occasione Pagare il biglietto Pagare il biglietto E uscire dalla sala Prima della fine Madonna Che era box office Per casa Sì sì Ho abbandonato la sala Terribile Ho abbandonato la sala Non l'ho mai fatto al cinema Mai Dico vabbè dai Ormai muovedo L'ho detto guardate Non ce la faccio più Ho detto Perdonatemi me ne vado Dissi Mi alzai Box office Nella top Dei peggiori film italiani Ma mamma mia Che schifo Sempre proprio Forse è solo Dracula 3D Se la lotta No Dracula 3D è molto divertente Ah Trash Trash È una super trashata Fa cagare Io non l'ho mai visto questo Non ce l'ho fatta L'altro Eh però box office No troppo trash Se no non ce l'ho fatta Box office è incredibile Ma hai fatto pure male Ci si vede Capito Sì Marzullo Secondo me Anche lui va nella categoria Weirdo Perché Alcuni programmi Tutti rilassati Di notte Con quelle domande Non domande Particolari Avevano un suo perché Diciamo che uno che ha giocato Anche su dei tempi Non radiofonici Volutamente Molto strano Fa parte secondo me Di quella categoria Di conduttori Che hanno Imposto Le loro I loro ritmi Come era il grande Chezzi per esempio Però Li parliamo di Livelli superiori Fuori orario Cosa del genere Arbore Arbore Può essere considerato Un arbore Allora Drogato Drogato No 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 Maestro no Ho scherzato Sogoliardi Io che lo guardavo Alle due del mattino Fatti una domanda E datti una risposta Classicone Io gliel'ho pure rubata In qualche tempo Chi è che non l'ha detto Fatti una domanda E datti una risposta Guardate che Io l'ho detto Come frase finale Io ve l'ho fatta Pure in Boscar Nel 2021 Quando mi domandano qualcosa Dico vabbè Fate la domanda E datte la risposta P e te ne vai Savino Non mi piace per niente Ricordo Savino Ma c'era colorato Colorato Niente Allora secondo me Il radio è terrificante Come conduttore radiofonico È terribile No però Colorato Ma ci lo divertiamo Colorato può essere? Si si colorato Colorato Amma mia Un altro programma Da normi da poco Che amarezza Però devo dire Colorato Paragonando Cioè c'è stata certe Mi ricordo La sua Come quella Un po' meno piacente Diciamo Tra quelle Che mi sono piaciute meno Però io me lo guardavo Regà colorato Parliamo pure di anni Dove L'alternativa Purtroppo era nulla C'era solo la tv Periodo terribile Io mi ricordo Che te vedevi colorato Oppure stavi con amici Non è che potevi fare Non è che potevi fare altro Quello c'era Quello c'era Io direi vaffangula Proprio Allora Teo Mammuccari Parola al CEO Eh vabbè Tra i miei Goat Assoluti Tra la mia Top 3 Della vita C'è Teo Mammuccari Hai ispirato Sicuramente Sì Sicuramente Sì Sia volontariamente Che involontariamente Io l'ho esternata Io metterei Cazzo che grande È capitato Che ho tirato fuori qualcosa Che ho visto da lui Sì Quindi Vabbè io lo metterei Come Top Showman Io Io poi Cazzo che grande Cazzo che grande Non è che ha fatto la storia Ma già ride Eh però io me lo ricordo Per i miei gusti Libero Ti posso dire Per i miei gusti Sia quando era lui Conduttore proprio principale Sia quando stava In altri momenti È sempre stato uno Che dici Oh c'è sta lui Sta a parlare a lui Rido Cioè Mi fa tagliare I tagli Proprio per le situazioni Pure che creava Fuori dal cupione Proprio Un Top Showman Era innovativo Per me Poi voi Cazzo che grande È giusto Cazzo che grande Sì cazzo che grande Ci stava Sì cazzo che grande È più giusto Ilari Blasi Affanculo E' buona Così Ero qui Ero qui Ero qui Però posso dire una cosa Io non seguo Il grande fratello Però molti mi dicono Che le sue edizioni Sono state le migliori È vero o è una cazzata? Forso Alfonso Allora Allora Paracursa era il top Poi c'è stata lei Che è andata bene E mo c'è cosa? Alfonso Alfonso Signorini C'è Alfonso Sopravvalutatissimi Però lì era proprio Sì è un programma Però Non per come abbiamo inteso Tutti gli altri Fino a questo momento Diciamo che è ispirato Vagnato Bravo Nel suo C'ha Comunque Delle skill Interessanti Anche poliedrico Ho fatto pure Qualcosina nel cinema Non malaccio Mafia Uccide solo d'estate Eccetera Come non scordarsi Della sua Un reporter Vero Un reporter Vabbè quindi Secondo me Non è Esatto Non è proprio Un conduttore Un reporter Per me non è un conduttore Allora La litizzetto Mamma Ma fa Fangula Proprio Ma fa Fangula Cioè proprio Sarut tu cazzo Veramente Sta comicità Da smemoranda Del 2006 No no Che c'è contro smemoranda? Ieri a luna di notte Stavo Abbiamo Ho messo un canale a caso Ok E c'era un film Comprata da un ista Luciana Litizzetto Che non so quale fosse Ah ecco Ravanello Pallido Ravanello Pallido Pisello Pallido Ho visto gli ultimi Dieci minuti Come Pisello Pallido Ho capito Che la morale del film Cioè che la risoluzione Finale del film È che lei Ha ricominciato a fare L'amore con suo marito Bello Cioè era quello Il lieto fine Vabbè ma anche molti film Di bui amore Non sono così Addirittura E il marito E il marito E il marito no E il marito è un Mummia Mummia Quindi il marito Va incornuti Esatto Poi lei recita sempre Lo stesso ruolo Sì basta Basta Cioè semplicemente Io direi semplicemente Basta Luciana Litizzetto Evolviti Dovunque va poi Non ha Esatto È Luciana Litizzetto Quindi va a fangula Corrado Mantone Corrado Della corrida Ah lui sì È tipo un mostro sacro Che io sappia Ha portato la corrida in Italia Che sembrava un programma inventato da lui Ves americano Però comunque ha fatto storia Quindi fossile Perfetto No 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 Secondo me Seconda Seconda lista Seconda striscia Perfetto Poi Fossile Ma è grande Corrado Ma siamo cresciuti Un po' è fossile Corrado è un grande Seconda Seconda categoria Corrado No per me cazzo Anche lo zecchino d'oro Felice mi sembra Oh Alisabetta Canalis Vabbè Ma che è qua Magara Ma lascia Ma non ha un trend Però la metto in basangula Metti pure Alfonso Signorino Vabbè Lui Mettilo Su frontman C'è effetti Vabbè Giustamente Alfonso Signorini Top frontman Ruppino c'ha ragione Perfettamente Primo frontman D'Italia Ma in realtà Allora Mummia Forse di pensiero Però a livello di conduzione Nel suo tresciume È anche decente Ha detto tipo Noi siamo tutti Contro l'aborto Sempre Lui entra come Cioè lui di giornale Tutto quanto E poi entra come Sì sì È stato direttore Di tantissimi giornali Ah beh Quello sì Allora Ivan Grieco Ivan Grieco Maestro Beh Secondo me È bravo Come Anche conduttore Anche quello che fa Cioè però qua Stiamo parlando La televisione Cioè ne stiamo parlando Vabbè È un po' meme Fa il suo Se sarebbe Allora se fosse in televisione Va fangula Vabbè Secondo me Cazzo che grande Dai Sì sì Cazzo che grande Sì sì Lo volevo dire Però ho detto Bene Forse è troppo Bravo dai È bravo È tanto Buon cuore Proprio Si vede che Sì sì C'è passione No ma ci tiene proprio Quando lo fa Paolo Cannone Beh è cornudo Frontman 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 è cornudo Diciamo Io quando ho visto I Boscar Ha fatto la scena Con Ercole Ha detto C'è quella La detenzione Stavo a casa Stavo piangendo Da ridere Io voglio Vi dico Omi Per me è top Showman Lo vuoi mettere No Secondo me Oh cazzo che grande Insieme a Ivan A me mi fa ridere Troppo Faceva ridere Il Boscar Però fa ridere Cazzo che grande Mi hai spostato Al Già Sul frontman No e Boscar Ha fatto l'uscita Stato vi zitti Porco Dio Io dai lo metterei Accanto ad Ivan Diversi Più spalla Insieme Insieme Spaccano Però Poi così si parlano Se ci fate caso Sì 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 è vero Quindi è perfetto Quezio Greggio A fianco Quezio Greggio A fianco Omi Adol Top showman Per me A me ha fatto ridere Sempre Sempre Li vedo In un contesto Diverso ovviamente Però Che dite ragazzi Showman Showman Lo sai perché Showman Lo sai perché Perché improvvisa Non segue il copione Capito Cioè Lo prendeva per il culo Il copione Mi hai dato Passartella Ivan Capito Che segue il copione E soprattutto Vi dirò Allora Mi dirò una cosa Visto che Con Ivan Appunto Prima della seconda puntata Ci siamo confrontati Un bel po' Lui ha Il concetto Giusto Di improvvisazione Cinematografico Nel senso che Per improvvisazione Noi intendiamo Adesso io faccio Qualcosa Ok Non scriptata Esatto Ma in realtà Magari nel cinema L'improvvisazione Significa Ho un'idea sul set E la inserisco Extra copione La inserisco In corso d'opera Ed è quello Che abbiamo fatto Con lui Cioè tipo Alcune cose Ho improvvisato Sul momento L'improvvisazione Per come la intendiamo In maniera generica Alcune invece Poco prima Dell'inizio della live L'abbiamo inserita In scaletta Tipo il fuori programma Quella ci è venuta Ad un bar Poco prima Quindi Ah oh Gerry Scotti Showman Che gli vuoi dire Top showman Secondo me Alziamo le mani E inchiniamoci Inchiniamoci a Gerry Scotti Top showman Buonasera Buonasera Solo per quello Solo per te Le striscia Anche per quello Ma poi quanti programmi ha fatto Ma tantissimi programmi Infiniti Sì Chi vuole essere Scionario Sempre da solo C'è proprio E tutti Trattina da solo Da solo fa tutto Cioè da tutto L'eredità Bellissimo Quando lo conduceva lui Sì La corrida pure ha fatto Sì La corrida pure Il milionario era stupendo L'ha fatti tantissimo Il milionario In gotta assoluto Mamma mia E devo dire che Non è facile Secondo me Da condurre il milionario Perché può essere pure noioso Sì Può far addormentare la gente Lui lo rendeva Non tanto noioso Ma pure divertente Lo show Dei record Lo show Dei record Oddio Ma allora sta rifamo Minchia Allora Fabio Fazio Secondo me si becca Proprio un bel Ma va Fabio Fazio Fa culo Col cazzo Minchia Mi invidi più Mamma mia Fabio Fazio A me Proprio mi fa cagare E' uno dei pochi Mi fa cagare Allora E' effettivamente Un po' come per la D'Urso Da normi Dire che Fabio Fazio Fa cagare Però ragazzi Purtroppo fa cagare E' vero Dai Effettivamente Servilismo All'ennesima potenza Intervista delle persone Di cui non sa un cazzo Sì 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 Altra citte di Fibra Fazio fan culo Col cazzo Mi invidi più Ospitali a dv Sì Che ci può stare Però almeno fai domande interessanti Cioè anche ospiti internazionali Cioè fa fa delle figure Veramente Terrificanti Sì Fabrizio Frizzi Top Showman Che ricordi Incredibile Frizzi Ragazzi Commettiamo che Top showman Scommettiamo che Ma ha fatto voody lui Generale Sì Goat assoluto Qua Che se parla solo conduzione Top showman A teatro Ma una cosa Spettacolare Guarda Io pure ero piccolissimo Infatti me lo ricordo Arto Tipo tre metri Però ero io che ero un bambino E lui era altissimo Non so se avevo Sì sì C'è proprio a livello di simpatia Di pelle Non lo riuscivo a sopportare Però è un top showman Cioè comunque Sapeva il suo E soprattutto fa parte Di quella Schiera di persone Super formate Sì Dal punto di vista artistico Carlo Conti Maestro Che ne pensi Levamo i lampade Ha fatto tanti programmi Dai Ha fatto Non lo so Top showman No Top showman No ha fatto il suo Secondo me Frontman Frontman ci sta Pronto 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 Ok Piero Angela Mostro Piero Angela Goat Dai Anche lui ha rivoluzionato Eh sì dai Come fai Carlo Conti Che era stato usato Pensate Su Twitter Ma questo Non in Italia Per parlare Sul fatto Se gli italiani So Se possono considerare Caucasici Sì ma infatti Noi italiani Non siamo considerati Pensate che roba Che sorriso Non siamo considerati Bianchi In America Ormai sì Magari un tempo no Germano Mosconi Ah ragazzi Io però Devo essere sincero Io non ho mai visto Ma io non ho mai visto Un suo programma Ho visto solo Faceva il TG Tu bestemmiava Ma io l'ho conosciuto Per le bestemmie Dopo Dopo anni Ovviamente Che Che le ha sparate Un old blur Un old blur Sì Io forse una volta L'ho beccato Io non ho mai visto Un suo programma Ma io lo metterei Su front Non mi posso passare Sulle clip In cui bestemmia Scusate No lui era conosciuto Perché bestemmiava Solo questo Ma pure sui fuori onda E Mosconi Sai che bestemmia Punto e basso Vabbè Era un conduttore Il TG Non era un conduttore Un programma Non era un programma sportivo Pure Aveva fatto Programmi sportivi Credo Ma ripeto Non ho mai visto Una sua trasmissione Quindi non lo posso valutare Eh faceva ride però Ma che è sto sassolino Porco Sì ma tra l'altro Molte erano fuori onda Sassolino porco dio Sì 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 I tecnici Mi fate una penna E lui inizia a bestemmiate contro Magari questo Si è fatto un culo Per trent'anni Solo così lo ricordiamo Ed è solo La bestemmia L'internet È quello Mi dispiace per te Masseo Mi dispiace per te Masseo Mario Giordano Vabbè Ragazzi Non Frontman Un frontman Dai sia un po' frontman Dai Comunque non è che arriva A cazzo che grande Per quanto abbia fatto Comunque il suo No? Sì 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 Però ormai è ridotto Proprio una macchietta Sì è una macchietta Vabbè Levando le idee politiche La qualità Della trasmissione Giletti Allora Devo dire che Poi in Ucraina Sta a fare i numeri Lui Allora Fungu ce può sta Però Giletti è particolare Intanto diciamo una cosa Dal punto di vista estetico Che Da quando ha smesso I dingersi I capelli È molto più figo Sì 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 E questo va Più vero È più nature È più un nature boy È strano Perché lui anche In realtà Ha fatto molta gavetta E Faceva anche giornalista Sul campo D'inchiesta Poi Purtroppo È finita a fare Dei trasmissioni Super trash Con Corona Con sta gente qui Veramente Tristi 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 Quando lo guardavo Mi ricordo lo guardavo In pausa pranzo Dopo Dopo aver lavorato Alla PAM Dal supermercato E Mi ricordo che era sempre Confident sul palco Comunque Sì Va bene Destreggiarsi Anche tra ospiti Spinosi Di batti Ti riteneva a bada Sì Quindi Boh Secondo me è un Cazzo che è grande Ma mettiamolo in front Vabbè Mi dà il social boom Quindi Ma c'è Quando uno se la tira troppo Che non resta un po' umile Capito Nel suo Vabbè Lundini Top showman E famo che se siamo capiti Direi che Allora Bisognerebbe guardarlo Anche In altri programmi Che comunque Qui pure Ecco autore È una roba registrata È molto particolare Anche quando va in radio Ci sta Altre cose che ha fatto Anche musicalmente Con Iva Zanicchi Quindi Pure lui È abbastanza polietrico Secondo me È abbastanza completo Capito È quello pure Che ti rende Un bravo showman Secondo me Vorrei vederlo In contesti Più grossi Secondo me Cazzo che è grande Lo metterai Ma lo vedrai presto Visto le direzioni Che sta prendendo Sto a vedere molto pure Le cose che sta a fare Ultimamente Ma tu devi valutare adesso Non poi Vedere in futuro Lo sa disegnare Spesso fa Sai che io guardo pure In chiave futura È ancora troppo Proso per giudicare La facciamo così Per me Sulla fiducia Top showman Perché È la migliore scoperta Degli ultimi Cinque anni Più che altro È riuscito In un panorama Di stantio Di decenni A trovare Una formula Televisiva Che non è semplice Che comunque Piace a tutti Soprattutto a noi Prendendo in giro La stessa tv Esatto Ma voglio dire Chiorello Vabbè Top showman A mani basse Assolutamente Un altro De quelli Che io definirei top Anche per I vari ricordi E la formazione Indiretta Che Ma anche con il pubblico Nel caso De Certo con il pubblico Perché lui Comunque è partito Ma sì Ma perché comunque Lui è partito Come intrattenitore Nei villaggi Quindi c'ha sempre Avuto Sta skill Capito Sì è partito Proprio dal basso Sì è partito al basso Facendo intrattenitore Nei villaggi E poi facendo Altre cose Per me Fiorello è importantissimo Per una motivazione Ha dimostrato Come si possa Toccare il fondo E risalire alla grande E vi dico questo Nei momenti in cui Ho la percezione Che tutto sia finito Per quanto riguarda il cerbero Divento Fiorello No penso a Fiorello E penso alle fasi Artistiche In generale In generale Gli alti e bassi Che molti hanno Avuto Quindi Si è saputo Rinventare Ovviamente Adesso un po' Ha detto Tutto quello che Doveva dire Non è più sorprendente Chiaramente Ma è sempre Performante Eh sì Quello sì Ci hai visto pure Quando ci stanno Momenti di buco Prendo l'esempio Di uno dei show Più grandi Sanremo Cioè tu metti La Fiorello Cioè noi ce li ricordiamo Abbiamo fatte le dirette E mi ricordo che magari No ma è successo Più volte Che tu captavi Che c'era magari O che testava Lungar Brodo O che comunque Testava a Paragüe Perché era una Diretta E lì Come cazzo fai A dire che Non è uno show Secondo me Qui parliamo Io mi dovrei Solamente inchinare Davanti a una Persona del genere Effettivamente Un fenomeno Allora Ho creato Una nuova categoria Divinità Eh sì Ragazzi Mi spiace Minchia Sì Per me guarda Divinità Tra quelli che stanno In top show Io Vabbè poi Ci abbiamo tutti quanti I gusti diversi Io il sottoscritto Ci metterei Paolo Bonolis E basta Paolo Ruffini Lui È mezzo comico Dite la vostra Prego Ha provato a fare il comico A me su Youtube Mi faceva taglia Che faceva tipo Dei video doppiati Nito del cucù Sì Ma è mezzo Non è un film Non mi piace Come conduttore Conduttore Ricordo colorato Sì ma fa colorato Ruffini A me non C'è Non è che In altro Sono andato a spettacoli Al vivo C'avevi le magliette Da bambino A 14 anni Del cuculo I video Che ti risposto Scambiare con bluetooth Però Da quella realtà In cui Secondo me Proprio Era un re Insieme a Ma anche proprio Dal vivo I spettacoli Era veramente Lo divertente Alla realtà televisiva Dove non funziona Non ha mai funzionato Secondo me Non faceva proprio ridere Film invece Dei che eri inaffezionato Fuga dei cervelli con Matano Fuga dei cervelli con Matano Vabbè ma lui è un po' Un uomo sugar Certo non spiccava poi lui Sui film che già erano Un uomo Un uomo sugar Un uomo sugar È proprio un uomo sugar Facciamo una categoria a parte Un uomo sugar Un uomo sugar lui Allora Paolo Ruffini Ma io Mummia 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 Arbor Questo È ciò che ho da dire Su Paolo Ruffini Perché Basta Perché Basta E se siamo capiti Basta È Paolo Ruffini Veramente Ma questo vale per Qualsiasi cosa Toccata da lui Mi accuto È vero Levato Sì sì Quell'inizio lì Che poteva essere divertente Pionieristico Se vogliamo Levata qualcosa a teatro Che non giudico Perché non ho visto Lascia un pass Però veramente ragazzi È proprio l'italiano Medio Al quale Non voglio assomigliare Vero Neanche io Ha fatto pure un film Tipo Così Sembra più raccomandato Ma questo non lo so Avrà Allora Guarda Citando Frusciante Non lo so Avrà leccato i culi giusti Forse In parte Si è fatto pure la sua capetta Però veramente Secondo me Secondo me È un remida Al contrario Poi come conduttore Come conduttore Cioè Affidereste un programma? No È bravo con gli ospiti È bravo con le interviste Tiene il palco Fa ridere Non sa fare un cazzo Quindi direi che Possiamo finire con questa nota Dolente E ringraziare Il maestro Gischianto Lo andiamo tanto bene Urliamolo Gischianto è vivo È vivo È vivo È vivo Il maestro è ancora vivo Hashtag in chat Il maestro è ancora vivo Ciao Gennaro Grazie live Grande Gennaro Ciao bello Ciao Gennaro Ciao Gennaro Ciao Gennaro Ciao Gennaro Ciao Gennaro